Ok, ecco qui il mio arcobaleno quadrato Io ho fatto questo disegno L'hai fatto Vale? Sì È molto bello Ecco Edoardo al lavoro sul suo arcobaleno quadrato Ed ecco Giselle che disegna il suo arcobaleno quadrato Ma cosa sta usando Giselle nella foto a destra? È un righello Infine Ettore e i suoi genitori ci hanno lasciato una bellissima proposta per esplorare l'arcobaleno Andate a vederla nella cartella